Cinghiali, tanti cinghiali, troppi cinghiali, ormai nemmeno fanno più notizia agli avvistamenti degli ungulati in giro per le strade e le piazze di Roma. Ma lo spettacolo a cui due sere fa hanno assistito i residenti del quartiere della Balduina, nella zona nord-ovest della capitale d'Italia, ha forse reso evidente come si sia ormai superato abbondantemente il livello di guardia rispetto alla confidenza di questi animali selvatici con la città, rispetto alla loro capacità riproduttiva, rispetto al livello basso di pulizia e di gestione di rifiuti che rende così interessante per questi animali spingersi all'interno dei quartieri nonostante i rischi. È un po' come per noi andare al ristorante con la famiglia, una passeggiata, qualche stop presso i vari gruppi di cassonetti a godere degli avanzi dei romani e la serata scivola via piacevolmente per i cinghiali, intendiamo. Erano circa le 21.30 quando le strade del quartiere residenziale che dista 10 minuti a piedi dal Vaticano sono state animate da una particolare comitiva in libera uscita. Due cinghiali adulti, forse un maschio e una femmina di dimensioni importanti e 15 cinghialetti. 15 ordinatamente in fila, un adulto davanti, l'altro dietro, il branco o la famigliola, se vogliamo rendere più tenera ed umanizzata la vicenda, ha scorazzato per le strade della parte alta della balduina alla ricerca di cibo. Insomma, una serata all'insegna della natura, che per fortuna si è risolta senza incidenti o particolare disagio, anche grazie alla buona volontà, di alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza del branco di cinghiali, in alcuni casi scortandoli fino a quando non sono usciti dall'area abitata rientrati in quello che, presumibilmente, è il loro habitat naturale, il parco regionale urbano del Pineto, che insieme al parco di Montemario rappresentano l'enorme polmone verde di quella zona di Roma. Ovviamente una zona boschiva così ampia ha anche chi la abita, compresi i cinghiali. In una città normale la presenza di animali selvatici nei parchi urbani rappresenterebbe un valore aggiunto di interesse, ma a Roma non è così. I cassonetti traboccanti di rifiuti, che per giorni a volte non vengono svuotati, rappresentano una risorsa troppo invitante per cinghiali e volpi. Invitante ed innaturale. Parla di cinghiali a Roma, come detto, ormai non fa più notizia, ma vale la pena ribadire alcuni concetti. La precedente sindaca, insieme alla sua giunta, è stata giustamente messa alla gogna, mediatica, per i frequenti avvistamenti di animali selvatici in città. Con il nuovo sindaco Gualtieri e la nuova giunta di centrosinistra non è cambiato pressoché nulla. Qualche leggero miglioramento nella gestione dei rifiuti, ma dipende molto dai periodi, ci sono giorni in cui alcuni quadranti della città sono invivibili. La decisione di costruire un termo valorizzatore, che però sarà operativo fra parecchio tempo, e niente di più. Il sindaco Gualtieri, in effetti, sembra essere un po' evanescente in questa prima fase della sua gestione della città. Cosa che certamente rende felici i cinghiali, volpi, gabbiani, un po' meno forse i domani.